Numeri infiniti da salvare, quanto amore puoi avere, più di quanto potrai dare. Numeri infiniti da salvare, quanto amore puoi avere, più di quanto potrai dare. Censiti e poi censurati, tutti quanti sulla base dei contanti siano contati, tutti etichettati con il numero di serie, etichettanti macchinetti in mezzo a mucchi di macerie. Tutti quanti uguali, talenti originali, che le lasciamo in rete e le impronte digitali, sia carne da statistiche abitiamo negli elenchi, tutti proprio, tutti inclusi, Natali, Raff e Frenchi. Numeri, non solo numeri, diversi e simili, ognuno ha la sua storia. Questo qui, caro amico, è uno che vede mafia da ogni parte. Uno di quei settentrionali con la testa piena di pregiudizi, che appena scendono dalla nave traghetto, cominciano a vedere mafia ovunque. E se lui dice che con la sberna è stato ammazzato dalla mafia, stiamo freschi. Io non so se avete letto quello che ha dichiarato a un giornalista qualche settimana fa a proposito del sequestro di quell'agricoltore, come si chiamava? Mendolia. Mendolia. Ha detto cose da far rizzare i cabelli. Che la mafia esiste, che è una potente organizzazione, che controlla tutto, pecore, ortaggi, lavori pubblici, vasi greci. Ma questa dei vasi greci è impagabile. Roba da cartolina del pubblico. Ma dico per Dio, un po' di serietà. Voi ci credete alla mafia? Ecco, e voi? Non ci credo. Bravissimo. Noi due, siciliani, alla mafia non ci crediamo. Questo a voi che a quanto pare ci credete, dovrebbe dire qualcosa. Ma vi capisco, non siete siciliano e i pregiudizi sono duri a morire. Col tempo vi convincerete che è tutta una montatura. In Sicilia comandiamo nuage. E se non volete cancellare completamente ADC, avete affari come diciamo nuage. Altrimenti velevamo un solo i voti dalla Sicilia, ma anche chi del Reggio Calabria e di tutta l'Italia meridionale. Potete contare soltanto sui voti l'Urnoid o ne votano tutti i comunisti. Vigliatevi chiesti. E non vi fate venire in mente interventi o legge speciali. Ma se no, ci saranno auce fatti in gravissima. Rossevo però che dopo l'87 Andreiotti non ha più favorito nessuno. Anzi, ha cercato di combattere la mafia. Lima è stato ucciso perché è simbolo di quella corrente politica che dopo che si è asservito dei voti di Cosa Nossa ha ciadito i suoi impegni proprio in occasione del maxiprocesso. E' stato un po' di questo processo. Hanno scritto sopra gli fuggili l'onorata società Suppartuti, armati fino ai denti, gullucori pieni d'omertà Vi portari fino allo continenti l'onorata società Mafia e leggi di sangue Mafia e leggi di onori Leggi che spacca l'uomo Senza perdono, senza pietà Grazie a tutti Com'è triste, com'è amare Sta sentata a guardare tutte le cose e tutte le parole Che niente può non fare Si ma c'era la città Che è la poca libertà Che sta terra e sta gente Noi orna ma darà Terra mia, terra mia Com'è bella la bontà Terra mia, terra mia Com'è bella la bontà Non è ovvero, non è sempre stessa Tutti i giorni può cagnare Oggi è dritta, rimane storta E che sta vita E che sta vita sono va E vecchia vanno rinta a chiesa Con una patria E ho paura E sta morta Che non ci vuole assai Terra mia, terra mia Tu ti chiedi libertà Terra mia, terra mia E mi sento a libertà Allarma, allarma, la campana suona Di turca s'esbarcata alla marina Che t'ha una scarpa vecchia, se la sola E che non ci vuole assai Quanto è lunga sto cammina Di sperate E sta storia si ripete Cienta bontà Noi cruimmo tutta quanta Stai lontana Quando suona la campana Allarma, allarma, la campana suona Di turca s'esbarcata alla marina Che t'ha una grana, la portana Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.